Ciao a tutte e benvenuti bentornate sul mio canale oggi vi mostro la variante della borsa fiore se vi ricordate qualche tempo fa io ho pubblicato un tutorial appunto sulla borsa fiore questa è una variante sembra è molto simile diciamo ma cambia la lavorazione io infatti ho quella del tutorial precedente che come vedete appunto è molto simile l'unica cosa che cambia è la lavorazione centrale che adesso vi mostro per cui non ci perdiamo in cacchiere e iniziamo subito il tutorial parliamo adesso dei materiali che ci servono per realizzare la variante della borsa fiore ci servirà del cordino io ho utilizzato questo qui il blu elettrico e ce ne serviranno circa 400 grammi che verrà lavorato con il numero 4 poi in questa borsa come avete visto nell'anteprima c'è un manico che ho realizzato io a spirale e ci serviranno questi ganci che appunto servono per incastrare il lavoro con delle viti che verranno appunto con piccolissimo cacciavite verrà semplicissimo ed ecco questi sono proprio li andiamo ad attaccare direttamente sulla borsa la spiegazione del manico non la faccio in questo tutorial ma lo già lo potete andare a vedere nel tutorial appunto della borsa fiore che ho pubblicato qualche tempo fa per cui iniziamo subito la lavorazione del corpo borsa iniziamo la lavorazione quindi con un anello magico dove all'interno andremo a realizzare 18 punti alti per cui lo fissiamo con una catenella noi facciamo altre due così diciamo c'è il primo punto quindi 3 catenella sostituiranno il primo punto alto dei 18 per cui li andiamo a creare quindi dentro questo anello magico che poi verrà vi faccio vedere come restringerlo basta poi tirare questa colina per cui siamo a 3 3 4 5 6 7 8 9 se vedete che man mano si allarga andate a tirare per stringere quindi 10 11 11 12 13 14 15 16 17 ed ecco l'ultimo 18 completato questo passaggio andate a tirare questa codina quindi tirate per bene e andate a stringere il cerchio poi non appena avete finito un paio di giri andate poi a fissare questo cordino per fare in modo appunto che il centro non tenda ad allargarsi per cui completati i nostri 18 punti alti andiamo a chiudere e non prendendo tutta la prima catenella ma solo mezza perché come l'altro tutorial tutti i punti alti che faremo da adesso in poi saranno tutti lavorati a rilievo quindi prendendo soltanto la solina la solina esterna per cui iniziamo chiudendo appunto bassissimo nella solina esterna del primo punto ed ecco fatto adesso andiamo a fare nel secondo giro andiamo a fare due punti alti in ogni punto in ogni punto sottostante quindi il primo lo sostituiamo sempre con 3 catenelle quindi 1 2 e 3 e ne facciamo un altro nello stesso punto sempre in costa quindi questo un altro passaggio molto semplice punto seguente sempre in costa mi raccomando ve lo faccio rivedere anche se già l'ho spiegato tante volte non tutto il punto ma solo quell'esterno perché al solito poi in questa parte che ci rimane all'interno dovremmo andare a lavorare i petali del fiore quindi continuiamo e facciamo due punti alti in ogni punto sottostante e ci rivediamo non appena arriviamo a questo punto ed ecco che abbiamo completato questo secondo giro adesso adesso chiudiamo al solito nella sola questa qui il punto con un punto bassissimo il giro e adesso andiamo a continuare facendo gli altri giri sempre 3 catenelle al posto del primo punto alto e andiamo io sempre nel primo punto andrò a fare sempre l'aumento quindi nello stesso punto andiamo a fare un altro punto alto e poi adesso nel seguente andiamo a fare solo un punto alto e nel successivo un aumento quindi due punti alti in quello dopo ancora uno solo e due nel seguente e questo modulo lo ripetiamo per tutto il giro ovviamente sempre in costa mi raccomando vedete che questa è la parte dove andremo poi a fare la seconda lavorazione per cui adesso non dobbiamo fare altro che fare dei giri e vi dico adesso come quindi qui abbiamo fatto i nostri 18 punti alti qui abbiamo raddoppiato quindi due in ogni punto nel punto seguente due punti alti un punto alto e due punti alti nel terzo ne faremo un aumento due punti alti separati e poi un altro aumento in quello successivo faremo tre punti alti in aumento e quello dopo quattro e un aumento e ci ripetiamo per fare insieme il penultimo e l'ultimo giro finito pure questo giro andiamo a fare il penultimo che non avrà più aumenti per cui faremo punti alti sempre ovviamente in costa senza senza fare più aumenti per cui in ogni punto disponibile ne seguiamo uno quindi questo è un giro molto semplice vedete sempre in costa mi raccomando perché altrimenti non riusciamo poi a fare il nostro disegno per cui eseguiamo quest'ultimo giro di punti alti in costa e poi facciamo il giro di rifinitura ovvero dopo che arriviamo a questo punto faremo un punto bassissimo in tutti i punti disponibili e ci rivediamo per per creare insieme la lavorazione interna la prima parte è completa quindi vi ricordo quello che abbiamo fatto per cui abbiamo iniziato con 18 punti alti poi nel secondo giro abbiamo creato aumenti per cui abbiamo raddoppiato i nostri punti e poi a partire dal giro successivo abbiamo creato un aumento e un punto alto un aumento e un ultimo giro abbiamo fatto semplicemente dei punti alti senza aumenti e poi un giro di contorno appunto bassissimo adesso come nell'altra come nell'altra borsa fiore dobbiamo andare a lavorare dei punti alti dove abbiamo lasciato appunto la costina per cui iniziamo andando vedete qui in questo punto esatto andiamo a andiamo ad attaccarci me ne abbiamo fatto il cappiettine ci andiamo ad attaccare con un punto basso e adesso andiamo a creare il nostro primo punto alto che viene sostituito da 3 catenelle quindi 1 2 3 e nello stesso punto quindi in totale devono essere tre per cui già uno è fatto facciamo il secondo e il terzo e il terzo andiamo in quello successivo vedete e andiamo a creare sempre tre punti alti quindi 1 2 e 3 facciamo la stessa cosa pure nel successivo quindi fino a qui è simile all'altra lavorazione quindi 1 2 e 3 e normalmente scusate si è imbrogliato un po di filo e quindi stavamo dicendo normalmente noi andavamo proseguivamo nell'altra tipologia del punto fiore andavamo a continuare fino a che non riempivamo appunto tutti questi punti invece cosa facciamo abbiamo fatto i nostri tre punti quindi tre punti alti tre punti alti e tre punti alti a questo punto cosa facciamo 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 3 catenelle voltiamo scusate voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare sopra questi punti alti e facciamo in ogni punto due punti alti quindi il primo sostituito sempre da tre catenelle quindi questo è il primo gruppo quindi nel secondo ne facciamo sempre due quindi come vedete è un po' diverso diciamo che il petalo è più alto a questo punto e ora vi faccio vedere anche come proseguire quindi due anche in questo quindi in tutti i punti che abbiamo sottostanti li andiamo a raddoppiare andiamo in quelli successivi e poi tutto quello che stiamo facendo questo modulo che adesso vi dico anche come proseguire verrà ripetuto per tutti i giri facciamo adesso il penultimo anzi ancora un altro quindi ho fatto ed ecco vedete questa è il punto alto che sostituito da 3 catenelle mi raccomando non lo saltate e anche qui ne facciamo due quindi in totale sono 18 fatto questo lavoro adesso catenella voltiamo un'altra volta il lavoro ci rimettiamo per cui come eravamo partiti e andiamo a fare un punto alto e scusate un punto basso in ogni punto alto sottostante quindi 18 e questa è la lavorazione del petalo che verrà eseguita sempre e ora vi dico anche come proseguire mi raccomando nell'ultimo fate gli ultimi due punti alti perché può capitare che vi sfuga quindi ricordatevi sempre di finire i punti alti quando facciamo il raddoppio qui sotto con due punti alti nelle catenelle d'inizio stessa cosa in quest'ultimo punto l'ultimo punto basso e noi ci siamo ritrovati in questa maniera a questo punto vedete questi punti qui saltatene 3 e sul quarto quindi 1 2 3 li lasciamo andiamo sul quarto e ci andiamo ad attaccare con un punto basso io piego un po' il lavoro perché così mi viene più agevole lavorare e facciamo il nostro primo punto alto secondo e terzo perché ricominciamo quello che abbiamo fatto in questo quindi li dobbiamo questi petali separare da tre punti che dobbiamo saltarne tre punti e ricominciare sul quarto e fare tre punti alti tre punti alti tre punti alti e creare questa lavorazione quindi questo è quello che dovremmo fare in tutta in tutta la lavorazione facciamo anche il terzo quindi 1 2 e 3 al solito 3 catenelle 1 2 e 3 voltiamo il lavoro e andiamo ad eseguire quello che abbiamo fatto qui ovvero dopo aver fatto i punti alti raddoppiamo rivoltiamo il lavoro e un punto basso ci vediamo a questo punto per farvi vedere come proseguire col secondo giro ed ecco che comincia a prendere forma il tipo di petalo e allora ne abbiamo fatti tre quindi siamo arrivati adesso che lo faccio vedere meglio siamo arrivati a questo punto quindi 1 2 e 3 ma abbiamo completato il giro quindi a questo punto cosa facciamo andiamo a abbassare questo petalo e il quarto punto noi lo andiamo a bloccare qui quindi praticamente non avremmo dovuto fare uno due tre e poi ricominciare a questo punto siccome è finito il giro quindi questo lo dobbiamo fare sempre vedete qui dove mi sono andata ad attaccare lasciamo il primo andiamo sul secondo e andiamo a fare un bel punto basso e ora vi spiego come andare sul secondo giro quindi chiudiamo con un punto basso vedete perché poi deve cominciare a stringersi scusate ecco così lo vedete meglio dopo aver fatto questo cosa facciamo dobbiamo andare sul secondo giro quindi dobbiamo appoggiare in questa maniera e andare a beccare il punto corrispondente di fronte vedete quindi questo poggia qui e allora noi andiamo a prendere questo punto ci blocchiamo con un punto basso e ricominciamo quindi il primo punto sostituito da tre catenelle e ricominciamo quindi tre punti alti in quello successivo la stessa cosa tre punti alti anche in quello successivo magari voi se piegate così il lavoro vi verrà più facile lavorare quindi andiamo su quello successivo e ne facciamo altri tre e ripetiamo esattamente il modello che vi ho fatto vedere prima quindi si fanno tre punti 3 catenelle si raddoppia si ritorna con un punto basso e dopo aver fatto tutto questo al solito se ne saltano tre e sul quarto si procede al successivo gruppo per cui ci vediamo alla fine per farvi vedere fino a dove dobbiamo arrivare per la lavorazione dei petali ed eccola completa io alla fine ho fatto quattro giri infatti se andiamo a vedere io ho lasciato vedete questi due liberi perché altrimenti se vado a fare pure questo il petolo essendo più grande andrà a fuoriuscire dal bordo ovviamente ho realizzato anche l'altra metà eccole e adesso dobbiamo creare la cucitura per cui io ho già in uno mi sono già agganciata per cui le mettiamo in questa maniera vedete e iniziamo la cucitura che già in altri tutorial io vi ho fatto vedere per cui nel momento in cui ci siamo agganciati noi andiamo vedete dobbiamo andare a prendere entrambe le asole e anche quelle di fronte e tiriamo poi anziché andare da questa parte andiamo sempre dallo stesso lato sempre andando a prendere le asole complete e tiriamo per bene andiamo avanti il numero del resto di asole sarà uguale perché avendo lavorato due cerchi identici come numero di punti non abbiamo nessun problema e questo è quello che dobbiamo fare per tutto il perimetro anzi non per tutto il perimetro ma lasciando aspettate un attimo completo questo punto allora intanto vedete il tipo di cucitura che viene ovviamente molto solida ma anche carina e noi che cosa dobbiamo fare ovviamente nel momento che andiamo a arriviamo da questa parte dobbiamo lasciare un minimo di spazio di apertura per poter appunto essere agevole e inserire la mano e poi arrivato quando non abbiamo completato la cucitura andiamo a inserire la calamita per cui ci ripetiamo non appena è tutto completato ed eccola completa ho inserito il manico ho cucito la calamita all'interno ed eccola qui come vedete appunto i petali sono un po' più in evidenza spero che anche questo progetto è stato di vostro gradimento attivate la campanella mi raccomando così sarete sempre informati sulle mie novità condividete con le amiche se avete dubbi scrivetemi lo sapete io vi rispondo e ci vediamo alla mia prossima creazione grazie a tutti